no dai come non è andato? e una mettiamo 4 ma è l'unione mi rompe i testi però e due ecco dammi una dai c'è un po' di amore se dire che non faccio sangamare ecco c'è un lavoro un video questa cosa è sento un wave addio ma c'è un rato ma non lo voglio me ne vado vabbè ti devo tenere come i segnali almeno dimmi la metà non lo sai come si non va ma come fai sono 15 centimetri proprio perchè voglio esagerare ma il giugno non riesci a prendere ma è il tuo figlio ma io abbi abbi di più vabbè Eli no vabbè vabbè Dai, faccio, faccio. Dai, faccio, faccio. Fai aprire la bocca. Sta cercando la nocciolina. Sì, faccio, faccio! Un po' così, la bucca! Che ne ho bisogno di fare per te? No, per te la buca? No, non, sta bene! No, non, sta bene! Ma è la buca? Ma è la buca? Per te la buca? Beh, ecco la buca! No, non è la buca! Vabbè Posso provare io? Uno spazzolino Uno spazzolino Per me lo senti Sentite Vai, è diventato così Vai La blapada Adesso mi vediamo quanti